Musica Buonasera e ben trovati. Vi presento subito l'ospite che è qui con noi in studio, il dottor Gilberto Parolo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Responsabile del settore apicoltura e foragicoltura naturalista agrotecnico della Fondazione Foianini. Ho detto bene? Sì, esatto. Possiamo spiegare brevemente di che cosa si occupa la Fondazione? La Fondazione Foianini è un ente di ricerca e assistenza in agricoltura, è composto di vari settori, quello che è appunto detto, alpicoltura e foragicoltura, poi c'è il settore della viticoltura e il settore della frutticoltura. Il nostro impegno è quello di dare assistenza alle aziende agricole e anche ai singoli privati che vengono da noi, con ad esempio malattie della vite, quindi c'è un settore che si occupa proprio dei patogeni. assistiamo anche ai frutticoltori e anche nel campo della foragicoltura e dell'alpicoltura. E facciamo anche ricerca scientifica, quindi con università e con enti di ricerca. Dottor Parolo, lei è stato un ricercatore a lungo, ha lavorato in università e può raccontarci qualche cosa nello specifico di questa sua esperienza? Sì, diciamo che penso che sia un po' nato tutto da un binocolo che hanno regalato mio padre durante il pensionamento. Quel binocolo è stato per me uno strumento per esplorare il mondo intorno a me. Inizialmente la mia passione si è rivolta agli uccelli, quindi col binocolo da casa mia a Sondrio, a Colda, ho cominciato ad osservare gli uccelli e da lì mi sono avvicinato alla curiosità e quindi anche ai temi, agli aspetti naturalistici. E a quell'età avevo 17-18 anni, quindi l'anno dopo quando ho deciso di fare l'università ho scelto Scienze Naturali e ho iniziato un percorso poi universitario. In botanica alla fine ho cambiato, sono passato dagli uccelli alle piante e sono contento di questo cambio perché le piante sono di più, quindi sono più divertenti e anche un po' più difficili. Quindi ho iniziato, ho fatto la tesi in botanica sulla Robinia e dopo ho proseguito l'attività di ricerca in università, prima con un dottorato di ricerca fatto nella zona del Pizzo Scalino in Val Malenco e poi ho fatto 5 anni di ricerca scientifica dove ho affrontato vari temi, tra cui quello proprio dei cambiamenti climatici. Proprio nel 2008 abbiamo fatto una ricerca molto interessante nell'area del Bernina dove abbiamo dimostrato per la prima volta a livello penso mondiale come negli ultimi 50 anni vi fosse stata una risalita di piante molto consistente. Quindi le piante spinte dal riscaldamento, dal cambiamento climatico, come hanno sempre fatto, si muovono e nel nostro caso si muovono verso le altitudini più alte. Quindi c'è una vera e propria migrazione, un vero e proprio flusso migratorio di specie che vanno verso le quote più alte. Questo fenomeno è osservabile ovunque a livello mondiale. Poi torneremo su questo tema, ma sono gli stessi argomenti di cui si è occupato in Inghilterra perché la sua carriera poi l'ha portata a trasferirsi oltre confine? Sì, a un certo punto in università gli sbocchi erano piuttosto difficili e quindi ho pensato di fare prima un periodo di libera professione e dopo di questo mi è venuta voglia di fare un'esperienza all'estero quindi parlare l'inglese, imparare l'inglese e conoscere un contesto nuovo. In Inghilterra mi sono occupato di pagamenti diretti e di sviluppo rurale inglese quindi ho conosciuto bene anche la loro realtà che è molto interessante e hanno una cura dell'ambiente veramente molto alta quindi da lì ho imparato molto. Lavorava per il Ministero dell'Ambiente? Sì, lavoravo per il Ministero dell'Ambiente vicino a Londra ed è stata un'esperienza molto formativa anche perché lavorare al Ministero è sempre qualcosa di abbastanza elettrizzante si è molto stressati, molto sotto la lente anche del pubblico perché comunque le cose che facciamo noi spesso finivano anche sui giornali quindi c'era proprio un aspetto mediatico importante. Quanto investe il governo inglese sull'ambiente? Che ruolo ricopre nelle politiche generali? Investono molto e investono in modo molto oculato direi anche perché ai tempi erano ancora parte della comunità europea poi si sono svincolati però diciamo che loro come governo inglese sullo sviluppo rurale che riguarda gli aspetti più naturalistici dell'agricoltura i pagamenti diretti sono dei pagamenti che vengono dati perché uno fa l'agricoltore e ha dei terreni da coltivare Quindi dei contributi? Lo sviluppo rurale si basa su dei contributi che si basano su dei servizi ecosistemici dei servizi che l'agricoltore fa per gestire bene l'agricoltura A volte hanno delle perdite perché per gestire bene gli aspetti in ambito agricolo bene dal punto di vista naturalistico a volte bisogna sfalciare una volta in meno piuttosto che irrigare una volta in più quindi hanno dei costi che venivano compensati con questi contributi dello sviluppo rurale e l'idea inglese era quella di dirigere la gran parte dei contributi quello che poi hanno fatto anche quando si sono staccati dalla comunità europea dirigere la gran parte dei contributi verso questi servizi ambientali che gli agricoltori fanno che sono importantissimi Per l'agricoltore inglese medio lavorare in questo settore che cosa significa? Significa fare business? Significa mettersi al servizio della comunità? Avere quali... Entrambe le cose L'Inghilterra ha la fortuna di essere un territorio molto piatto per quello che è anche molto ventoso e con questi grossi cambiamenti meteorologici durante il giorno Essendo molto piatto è facilitata un tipo di agricoltura verso quella intensiva che però è compensata da una serie di servizi ecosistemici che vengono pagati con lo sviluppo rurale Quindi io devo dire che le cascine che ho visto degli agricoltori, i parchi macchine erano paragonabili se non anche migliori di quelli che troviamo da noi in pianura padana Quindi era gente che comunque aveva un ottimo reddito Quindi faceva business ma con questi incentivi che venivano dati dal governo centrale facevano anche quei servizi ecosistemici che sono fondamentali anche da noi per mantenere il territorio così come lo vediamo Quindi è un territorio curato e non abbandonato Cioè le persone restano facilmente nelle aree dove sono nate Sì Non vi abbandono del territorio dunque? Io ne ho visto poco di abbandono Gli inglesi sono delle persone Io mi sono trovato benissimo in Inghilterra Sono delle persone col cuore in mano piuttosto rurali Mi ricordo anche quando facevamo i meeting per il ministero che c'era questa persona che lavorava in Natural England che aveva un'azienda di vacche e odorava di letame quindi sono persone veramente genuine che vivono molto la loro realtà territoriale Poi Londra è un'altra cosa Londra non è l'Inghilterra è una città di business ma in generale l'Inghilterra è così è un territorio molto rurale con gente genuina Lo stesso contesto che ha trovato in Svizzera? In una sua successiva esperienza? Gli svizzeri sono diversi Svizzera sono stato tre anni e ci sono andato perché ho voluto ritornare a fare un po' più naturalista e infatti così ho fatto ho fatto il botanico per loro abbiamo fatto tanti interventi di rinaturazione di corsi d'acqua abbiamo fatto tanti lavori di controllo delle piante esotiche la Svizzera investe tantissimo molto più dell'Inghilterra tantissimo sull'ambiente e la cosa anche che è stata positiva è che lo Svizzero è guardiano del territorio se vede qualche cosa che non va qualcuno che getta del materiale oppure qualcosa che non torna lo segnala immediatamente avvisa subito e arrivano che da un punto di vista è un po' diciamo stressante perché comunque si sa che si hanno un po' gli occhi addosso però dall'altra consente di mantenere il territorio in un certo modo e questo ha dei benefici soprattutto sulla nostra qualità di vita perché vivere in un ambiente sano vuol dire essere anche più sani noi Certo tutte queste esperienze le ha portate in Valtellina in Fondazione Foianini e dunque oggi ha anche un quadro molto preciso di quello che è il nostro territorio il nostro ambiente un territorio che è sufficientemente curato si potrebbe fare di più che cosa ha trovato? che cosa ha scoperto? Sicuramente facendo i confronti con le altre realtà ho trovato che si può fare decisamente di più le difficoltà stanno un po' sulle scelte anche politiche che vengono fatte e soprattutto sul fatto che la montagna è equiparata dal punto di vista dell'agricoltura alla pianura padana e questo è assolutamente fuori di testa nel senso che in pianura padana chiaramente ci sono tante aziende anche piccole che comunque in quest'anno hanno avuto le loro difficoltà però lì sono più imprenditori agricoli invece sulle Alpi sono veramente pochi quelli che possono essere definiti imprenditori agricoli sono ancora allevatori e agricoltori di montagna quindi con delle realtà piccole magari con ereditate dal papà dai nonni con una tradizione con un terreno più piccolo da far fruttare perché le spese sono tante anche per loro quindi i contributi che prendono per lavorare in montagna sono pochi esigui rispetto a quello che devono o dovrebbero fare e di conseguenza c'è un po' questa difficoltà di poter organizzare e gestire il territorio in un certo modo con il loro aiuto che è fondamentale a fronte di una mancanza di soldi che potrebbe convincerli a fare le cose in un certo modo in Svizzera ad esempio questo problema non c'è perché le casse sono spesso piene sono due realtà economiche lo so diverse quindi forse neanche paragonabili però investono tanto sull'ambiente e anche sugli altri settori in Svizzera queste problematiche non ci sono perché vengono dati contributi abbastanza importanti anche agli allevatori proprio per fargli gestire il territorio in un certo modo La cura del territorio in Valtellina è omogenea oppure si notano delle differenze? Da quello che vedo io è abbastanza omogenea con dei territori che sono forse un po' più in difficoltà per motivi adesso sto pensando ad esempio alla qualità dei pascoli i territori che hanno dei substrati calcarei quindi delle litologie calcare ospitano una flora diversa da quella silicea e dei pascoli che sono mediamente più ricchi come biodiversità ma anche come valore foraggero sulla silice invece molto spesso si instaura un tipo di pascolo che è il nardeto che è uno dei pascoli più comuni a livello alpino che è un pascolo povero dove il nardo che è una graminacea che non è appetita dal bestiame se non quando è giovanissima quando è giovanissima il bestiame è ancora giù in stalle in fondo valle perché parliamo dei primi di giugno quindi sono di scarso interesse oltre che di scarso valore no interesse no perché comunque hanno una flora molto interessante anche loro però sono più magri più poveri e quindi hanno necessità di essere gestiti in modo meglio in modo un pochino più oculato rispetto ai pascoli sul calcare quindi territorio di Livigno abbiamo sia silice che calcare va bene anche in alta valchiavenna sulle orobie e anche sulle retiche la predominanza è per la silice quindi per questi pascoli che sono un po' poveri di specie quindi anche con un valore foragero basso che vanno attentamente gestiti per evitare che degratino sostanza siamo partiti con quello che indicava anche il nostro titolo ovvero con il tema del riscaldamento globale abbiamo detto che muove la vegetazione e abbiamo parlato anche della sua ricerca sono passati un po' di anni che cosa è accaduto nel frattempo e quanto il riscaldamento ha mosso la flora in particolare quella alpina sicuramente le cose sono peggiorate infatti sarebbe interessante ripetere adesso in questi anni la stessa ricerca fatta sul Bernina e si vedrà che probabilmente le velocità di risalita sono anche aumentate e quindi come ha sempre fatto la natura e la flora in questo caso si riorganizza quindi c'è un riscaldamento c'è un cambiamento climatico il tutto si riorganizza e si organizza anche in quei sistemi culturali che sono i prati e i pascoli in questo particolare periodo ovvero durante la stagione estiva che si sta per concludere abbiamo notato una particolare fioritura una fioritura che è sembrata per certi versi anche prolungata e poi all'improvviso un ingiallimento delle foglie ecco e tutto questo è dovuto ad una stagione particolarmente calda alla siccità oppure al cambiamento climatico e quindi a un effetto di più lungo periodo quest'anno è stato un anno veramente anomalo un po' come il 2003 quindi molto molto caldo assenza di precipitazioni nel 2003 però aveva nevicato molto in inverno quindi le falde gli acquiferi erano pieni e hanno supportato meglio l'estate siccitosa quest'anno siamo partiti anche da una situazione di nevosità molto bassa nevicato poco ha piovuto poco quindi c'è stata una fortissima crisi e quindi abbiamo avuto una risposta da parte soprattutto di latifoglie come le querce il castagno che hanno probabilmente rimesso in luce un adattamento che forse hanno utilizzato in tempi antichissimi passati ossia hanno disseccato le foglie hanno detto preferiamo vivere noi come pianta internamente rinunciare a quest'ultimo periodo fotosintetico e quindi facciamo riserva idrica e dissecchiamo l'apparato fogliare quindi è una difesa quella che noi vediamo l'effetto sì assolutamente e sul discorso anche delle fioriture è chiaro che con una stagione estiva e delle temperature che si prolungano degli inverni anche più umiti assistiamo a delle fioriture anche in pieno inverno che sono molto anomale a delle fioriture sempre più anticipate a una rifioritura di specie in autunno perché l'autunno assomiglia un po' alla primavera quindi anche salendo vedevo nei prati il tragopogon che è una steraccia tipica dei prati da fieno che rifioriva e con stupore dico ma questa fiorisce a maggio che strano e quindi ci sono un po' tutte queste evidenze questi fenomeni che sono dovuti proprio a un clima che è cambiato che si è riscaldato e che probabilmente in futuro per un po' di anni peggiorerà ancora poi vedremo se tutto questo è un bene o un male anche per il settore dell'agricoltura ma è una mia impressione oppure in questi ultimi anni vi è stato un cambiamento anche di specie perché la colorazione dei nostri pascoli è cambiata la fioritura è diversa sono sempre specie autoctone sono sempre specie alpine o che cos'altro è accaduto? Ma nei pascoli di altitudine direi di sì probabilmente si è un po' prolungata la fase di fioritura possiamo assistere magari a qualche esempio ma limitato di fioriture doppie come a quote più basse primavera primavera autunno c'è stato a quote più basse quindi questo fenomeno riguarda tanto il fondo valle la media montagna fino a circa i 2000 metri poi da lì in su è più difficile c'è stato un ingresso di piante esotiche dovute alle cause più svariate dai semi che vengono dati agli uccellini che contengono dei semini di piante che poi in natura si spontaneizzano a veramente l'andare sembrano cose abbastanza particolari ma è da lì che poi arrivano l'andare a fare una camminata ad esempio in Appennino oppure lungo il Po dove già sono presenti delle piante esotiche i cui semi si attaccano ad esempio alle calze o ai nostri vestiti noi ritorniamo le laviamo durante il processo di lavaggio oppure togliamo i semi proprio prima di entrare in casa perché diciamo queste cose piccicose le togliamo e questi sono tutti i fenomeni che portano alla diffusione di piante esotiche e poi hanno un'alta capacità di diffondersi in natura e quindi poi si si diffondono a scapito delle nostre piante autoctone questo è un danno? assolutamente sì è un danno perché tante sono piante allergogene ad esempio l'ambrosia è una pianta allergogena che dà anche problemi abbastanza importanti l'ambrosia è arrivata in Valtellina all'inizio del 2000 e ha avuto un'esplosione fortissima dal 2010 al 2020 adesso chiunque faccia la strada statale da Morbegno fino a Sondrio vedrà che i lati delle strade sono pieni di ambrosia ci sono tantissime quindi piante allergogene piante che danno anche delle problematiche in agricoltura perché tantissime sono piante infestanti le colture agricole quindi soffocano le colture che vengono messe a dimora si sostituiscono poi alle nostre piante a livello arboreo e anche a livello arbustivo lungo il fondo valle c'è il poligono del Giappone che è una pianta che viene dall'Asia che è una bruttissima è una poligonacea bruttissima da estirpare è molto tappezzante e rimane lì non la toglie più nessuno in provincia di Sondrio più o meno abbiamo circa 210-220 specie esotiche su un totale di circa 2000 accidenti più del 10% più del 10% ma siamo ancora molto bassi rispetto a ad altre realtà cosa ci salva l'altitudine il clima? ci salva il fatto di essere in un contesto montuoso quindi con climi ancora abbastanza freddi e rigidi d'inverno mentre in altre zone dove il clima è un po' più umite e il riscaldamento è stato un pochino più forte che dalle nostre parti c'è stata una diffusione fino al 30-40% delle flore di un territorio dunque che cosa si dovrebbe fare? Andrebbero estirpate tutte queste? no non tutte ma sicuramente contenute e almeno all'interno delle riserve naturali contenute e nel momento in cui si hanno dei primi focolai come per il caso dell'Ambrosia o come per il caso di un'altra liana che si chiama Sicios angulatus bisognerebbe intervenire tempestivamente che intervenendo tempestivamente si evita che poi questi focolai diventino diffusissimi abbiamo sentito parlare anche dell'albero delle farfalle di che si tratta? sì l'albero delle farfalle è la Budleia davidi che è una pianta originaria della della Cina e che da noi è arrivata nel nord Italia nei primi del novecento e soprattutto in Valtellina si è molto diffusa a seguito dell'alluvione brutta alluvione c'è stata nel 1987 a seguito di quell'alluvione dove lungo le aste soprattutto dei torrenti ma anche dei fiumi le acque in piena avevano proprio pulito e tolto tutta la vegetazione lasciando il suolo nudo proprio su quel suolo nudo è andata ad insediarsi la Budleia così come tante altre esotiche che si diffondono proprio in questi contesti dove non c'è competizione con le autoctone e quindi ci troviamo nei nostri torrenti lungo l'assi dei nostri torrenti alpini i pescatori come a me ne sanno qualcosa queste specie molto intricate che soffocano la nostra natura soffocano la nostra vegetazione si sostituiscono ad esempio alla vegetazione ripariale di ontano verde e di salicone e di salice appendicolata quindi sostituiscono delle piante nostre creando quindi un impoverimento della biodiversità perché le piante nostre danno supporto anche agli insetti agli uccelli la Budleia dà un qualche cosa infatti è chiamato anche albero delle farfalle durante il periodo della fioritura è molto visitata dalle farfalle perché dà del nettare però su quelle piante lì le farfalle non depongono le uova perché i giovani le giovani larve non si nutrono delle foglie della Budleia quindi le devono andare a deporre da un'altra parte quindi è un contentino che viene dato alle farfalle ma quello non giustifica la sostituzione del danno che fa di rimozione delle nostre autottone dunque anche le alluvioni piuttosto che le tempeste mi viene in mente la tempesta vaia hanno influito negativamente sulla vegetazione e sulla flora sì creano quelle condizioni per cui la presenza di specie esotiche crea appunto queste vegetazioni sostitutive e quindi crea un impoverimento della biodiversità abbiamo notato in particolare qualche anno fa una trasformazione anche delle piante in quota per esempio alivigno addirittura sembravano tutte malate e l'arrivo di una serie di diciamo di larve particolari che poi si trasformavano così come sono arrivate fortunatamente sembra se ne siano andate è veramente così? Sono salve le nostre piante? Ora non non sono un patologo vegetale però recentemente sono proprio venuto alivigno su una segnalazione a verificare dei larici che si erano ammalati abbiamo ricostruito anche grazie all'aiuto di un'aperizia di un forestale che era stata fatta qualche anno fa si trattava di un insetto e molto spesso questi insetti creano queste infestazioni che durano due o tre anni poi per un tot di anni lasciano le piante tranquille e magari è possibile che dopo ancora un bel po' di anni possano diciamo ritornare e creare un'infestazione chiaro che se l'infestazione è ampia crea comunque dei danni se invece è localizzata può rientrare anche in un ambito di dinamica naturale del bosco perché sappiamo che le piante secche creano comunque molta biodiversità perché vengono visitate da quegli uccelli che si notano proprio di insetti che stanno sul legno morto fanno anche i nidi più preferenzialmente nelle piante nelle piante morte sofferenti poi bisogna anche capire se queste sempre in natura la biologia è sempre complessa se questi fenomeni di infestazioni non siano magari scatenati appunto da un riscaldamento del clima e in questo caso ci sarebbe una causa che non è che non è propriamente naturale o siano amplificati da un da un riscaldamento del clima possiamo dirlo difficile io no perché non è proprio il mio tema però penso che gli esperti lo possano lo possano dire per le culture agrarie che cosa significa questo cambiamento climatico per esempio la calura di questa stagione estiva in alpeggio cosa ha prodotto più benefici o più danni è sicuramente prodotto più danni infatti tanti alpeggiatori hanno dovuto rinunciare a una stagione di alpeggio prolungata come da standard fino almeno alla metà di settembre e alcuni sono scesi dai monti prima perché la mancanza di acqua e il foraggio che scarseggiava perché abbiamo visto che i pascoli erano molto ingialliti creava un problema di asciutta nelle vacche e quindi hanno deciso di scendere di ritornare verso il fondo valle sicuramente è stata un'estate drammatica unita unita poi anche al discorso della guerra che ha aumentato tutti i costi ma questo deve essere un punto di partenza per fare dei ragionamenti e in particolare rispetto a questo che cosa si sta facendo per esempio nella coltivazione di alcune specie come il grano o farine integrali si arriverà mai a soddisfare il fabbisogno locale con la produzione locale? questa è una domanda abbastanza complicata sarebbe auspicabile perché sarebbe proprio un po' la direzione da seguire più un'azienda agricola dipende da fonti esterne e più è soggetta alle variazioni di mercato quindi come quest'anno dove il gasolio è andato alle stelle i costi del foraggio e anche del mais da dare al bestiame come nutrimento sono andati alle stelle è chiaro che anche nel loro bilancio economico questa cosa si sente e più l'azienda dipende da queste fonti esterne e più è soggetta a queste annate buie e problematiche quindi il nostro impegno è anche quello proprio di cercare di fare in modo che dando assistenza alle aziende queste cerchino di autosostenersi di dipendere sempre meno dalle fonti esterne certo ora vi è l'incognita dell'aumento energetico e dunque per tutte le aziende agricole Temo sarà un periodo davvero molto difficile ma rispetto invece a quello che stavamo dicendo vi state occupando in particolare di qualche sperimentazione siete concentrati su qualche area in particolare dove sarà possibile investire dunque per quanto riguarda i pascoli diciamo che esiste abbastanza poco a livello locale perché prima bisogna fare gli studi sentire anche le problematiche degli alpeggiatori e dopodiché si tirano fuori le strategie e le azioni da intraprendere per quanto riguarda i pascoli sono stati fatti degli studi in Engadina che mettono già in evidenza come un alzamento di temperatura crea una riduzione del numero di specie floristiche dei pascoli e un loro impoverimento in termini anche di produzione di fito quindi il controllo è di quello che si potrebbe pensare non è vero che il caldo permette una maggiore fioritura o una migliore fioritura dipende ma in linea di massima questo è stato dimostrato sui nardetti che sono i pascoli appunto che dicevo prima che sono quelli che più facilmente vanno in controdegradazione sarebbe bello capire se anche i pascoli di calcare hanno le stesse le stesse reazioni o hanno reazioni diverse per quanto riguarda invece i prati da fieno a livello locale non esisteva nulla quindi nell'ambito di un progetto del GAL Valtellina quest'anno abbiamo deciso noi di fare una ricerca e abbiamo fatto un monitoraggio di superfici di prati da fieno che avevamo rilevato nel 2005 nella comunità montana della Valtellina di Sondrio l'abbiamo monitorato il 2022 e dopo 17 anni abbiamo visto che c'è stato un aumento in termini di composizione floristica di specie di piante termofile quindi amanti del caldo in tutti i livelli attitudinali sia dal fondo valle che verso fino a 1600 metri quindi è un fenomeno che colpisce a più a più livelli attitudinali da un fenomeno quindi in corso che sicuramente sta arrivando arrivato anche qui in alta valtellina questo cosa comporta comporta che le specie più termofile quindi amanti del caldo di solito hanno delle foglie più sottili più dure più rigide e quindi creano un abbassamento della fitomassa quindi della quantità di fieno prodotta e a volte anche delle loro proprietà organolettiche quindi questo fenomeno lo abbiamo dimostrato ed è in corso e dunque tutto questo cosa lascerebbe presagire che con per esempio una cultura di questo tipo si impoverirebbe il settore e quindi bisognerebbe in qualche modo investire a più alte quote oppure sicuramente ci sarà una problematica che già quest'anno penso che gli alpeggiatori abbiano visto con una riduzione del fieno prodotto quindi non vi sono più tagli con questo caldo no ve ne sono di meno ve ne sono di meno assolutamente di meno quindi la produzione è stata più bassa più scarsa quello a cui stavamo pensando è l'irrigazione però in carenza d'acqua anche l'irrigazione diventa difficile quindi non è probabilmente la soluzione giusta a meno che non si creino dei bacini di accumulo dove si accumula l'acqua naturale si accumula l'acqua nel periodo in cui c'è e la si usa nel periodo in cui manca oppure stavamo pensando di guidare noi questo processo di aumento delle specie termofili nei prati da fieno selezionando noi con delle trassemine facendo poi delle trassemine quelle che sono le specie che sono in grado di sopportare bene il caldo ma che diano anche un contributo foraggero adeguato a quali state pensando in particolare quali specie? ci stiamo ragionando ci stiamo ragionando ma diciamo che ce ne sono su cui si può investire un agricoltore di Livigno negli ultimi anni ha deciso di tornare a coltivare segale e altre specie che erano praticamente scomparse da queste altitudini ma che secondo la sua memoria erano invece presenti nei primi del novecento e dunque avrebbe un senso tutto questo tornare a coltivare queste specie e quindi a investire in questo ambito oppure no sì sì assolutamente sì anzi è stato veramente di grande aiuto l'attività di certe realtà che ad esempio mi viene in mente prospecerare in Svizzera che hanno perpetuato queste semenze diciamo tradizionali antiche di quota anche che andavano via via perse perché il mercato ha praticamente azzerato quasi tutta la varietà quindi grazie a queste a queste semenze a queste specie che sono state mantenute e continuamente coltivate anche da parte di volontari si ha a disposizione ancora un ottima un ampio spettro di biodiversità culturale queste sono assolutamente delle operazioni da favorire da incentivare molto bene la valtellina possiede una sua piccola banca di semi e di specie autoctone oppure si deve rifare alle banche svizzere per intenderci ma adesso di preciso non so rispondere però so che tanti agricoltori che guida la provincia di Sondio Patrizio Mazzucchelli che è una persona lavoratrice abbastanza conosciuta lui diciamo ha contatti con molti contatti con prospecie rara quindi con gli svizzeri sarebbe bello fare anche una banca delle culture nostre perché ne abbiamo anche di nostre tipicamente nostre certo per quanto riguarda invece il vostro lavoro specifico in questo momento state lavorando ad un progetto sul territorio di Bormio vogliamo anticipare qualcosa? sì sì stiamo facendo delle sperimentazioni per valutare la possibilità di coltivare un grano simile al grano saraceno che non è un cereale ma è una poligonacea il grano siberiano che è un grano che viene coltivato originale della Siberia che era già presente nel nostro territorio no no non era già presente perché il nostro era il grano saraceno però ha delle ottime proprietà organolettiche quindi è un grano molto proteico potrebbe essere utilizzato anche per produrre farine ad uso alimentare sì sì ma questo è l'obiettivo? viene già prodotto questo è l'obiettivo e viene visto che è un grano che comunque ha un gusto piuttosto forte non viene utilizzato mai in purezza viene sempre mischiato con il grano saraceno ad esempio con la farina bianca però è una cosa che è già in corso stiamo facendo queste sperimentazioni sperimentando varie varietà sette varietà che vengono da varie parti del mondo anche dalla Cina per capire quelle che sono le varietà più idonee al nostro clima al nostro territorio la provincia di Sondrio è diciamo una provincia piuttosto piccola da un punto di vista numerico perché siamo poco più di 180.000 abitanti ma da un punto di vista territoriale che cosa offre abbiamo un territorio sufficientemente vasto per poter produrre in autonomia le farine di cui abbiamo bisogno potremmo arrivare un giorno a pensare di non importare più la farina per i nostri pizzoccheri quello sarebbe veramente un obiettivo io penso di sì assolutamente sì quello sarebbe veramente un obiettivo importante poi credo che bisogna anche un po' rimanere aperti alle cose che vengono da fuori però è importante che la maggior parte sia nostrana coltivata e fatta da noi perché più si dipende dagli altri in situazioni un po' di scombussolamenti economico politici come quelli che abbiamo visto quest'anno e più si è penalizzati lei è un botanico rispetto alle fioriture che cos'altro ha notato in quest'epoca recente ma io mi diverto tantissimo perché quasi ogni quasi ogni giorno quando metto il naso fuori di casa trovo ahimè delle nuove piante esotiche e quindi poi pubblico i dati dovrei farlo un po' indietro altre cose ho notato per esempio l'arrivo abbastanza consistente da noi sul territorio valtellinese della palma di fortune che qui voi a Livigno non forse spero per voi non sapete neanche che cos'è però è una palma che viene dalla Cina che era stata tantissimo utilizzata in zona in subrica anche in Ticino in Svizzera perché rendeva i laghetti ticinesi molto esotici la presenza di queste palme e quindi attraeva molto lo svizzero della Svizzera interna purtroppo però queste palme sono arrivate anche da noi sono carine sono belle però ogni pianta fa una semenza veramente molto elevata fino a un milione più di semi per pianta questi vanno in giro e chiaramente si insediano nei boschi quindi all'interno dei nostri boschi già diciamo di latifoglie che sono molto spesso sostituiti da robinietti anche la robinia è una pianta esotica in questo sottobosco sta arrivando la palma che azzera quasi la vegetazione degli strati bassi del bosco e dunque cosa si dovrebbe fare per contenere questo fenomeno insomma in Svizzera facevamo si spendevano anche tanti soldi si facevano delle operazioni coinvolgendo i forestali di sia di attivi quindi di taglio stirpazione di piante ma anche diciamo in prospettiva quindi si se ne vietava la vendita prima cosa e poi si facevano delle serate con il pubblico dove si spiegava si diceva volete tenere la palma di fortune bene nessun problema però ricordatevi di gestire le infrutescenze quindi a un certo periodo dell'anno che è il settembre ottobre dovete armarvi di scala e tagliare le infrutescenze e buttarle via perché altrimenti disseminate e questo è un problema diciamo che riguarda la natura ma noi facciamo parte della natura quindi come dicevo anche prima il vivere in un ambiente sano vuol dire essere anche più sani noi e dunque dobbiamo prevenire evitare che tutto questo avvenga perché quello che ci diceva prima era comunque anche questa potatura di cui lei parlava di queste piante esotiche potrebbe in qualche modo comunque continuare a a coltivarle perché da qualche parte queste è un discorso complesso sarebbe un riciclo continuo dunque come tocca a vari punti è un discorso complesso si è sempre fatto poco qui da noi però è un tema che va affrontato è un tema che secondo me prima o poi andrà affrontato quello che si può fare è certe situazioni che oramai sono degenerate non c'è più niente da fare in altre si può intervenire sui focolai appena si presentano e poi si può sensibilizzare un po' di più il pubblico la gente ricordando quello che è il punto fondamentale che è questo ossia se viviamo in un ambiente più sano perché ci sono piante autoctone e meno piante esotiche stiamo meglio noi quindi il dire alle persone se non pianti quella pianta o se la pianti la devi gestire deve essere pensato nell'ottica di dire stai meglio tu e stiamo meglio noi in sostanza dunque nel suo giardino non ci saranno mai piante esotiche e il suo consiglio è quello di dare valore a quello che realmente il nostro territorio ci ha offerto naturalmente sì e sono tantissime le piante che abbiamo noi che possono essere anche coltivate nei giardini delle baite o nei giardini di casa quante specie abbiamo? in provincia di Sonio circa 2000 2100 e dunque abbiamo un'ampia scelta sì 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 assolutamente solo che queste cose non sono mai state diciamo proposte in termini nei termini giusti in termini un pochino consistenti perché ci vuole dietro comunque una filiera anche di produzione però le abbiamo altro che poi è chiaro che non bisogna mai vietare le cose bisogna educare a gestire quello che può essere dannoso nel momento in cui lo si pianta bene siamo a Livigno ha notato qualcosa di particolare è un territorio sufficientemente curato quali consigli? il territorio di Livigno mi piace tantissimo è un territorio secondo me ancora molto ben curato l'unica cosa che è un po' noto è riguardo i prati di fondo valle che sono molto estesi ma sono diventati molto pingui e abbastanza poveri di specie questo anche in base ad una ricerca che era stata fatta dai miei colleghi gli anni scorsi abbiamo proprio visto che a differenza di Bormio dove ci sono meno superficie a prato ma sono più ricche di specie nei prati di Livigno abbiamo prati molto estesi ma floristicamente sono un po' sono un po' banali quindi si potrebbe lavorare per migliorarli per quanto riguarda gli alpeggi abbiamo tantissimi e bellissimi pascoli bellissimi ambienti anche ben tenuti quindi direi che è un territorio ancora molto molto ben curato un aspetto credo molto importante comunque è quello della gestione del territorio e dunque non solo dei prati ma anche dei fiumi dei ruscelli e tutto questo è molto molto importante anche per la vegetazione sì assolutamente siamo in chiusura dottor Parola le sue conclusioni anche su questo tema che conosce bene e anche magari su quello che si augura o su cui vorrebbe lavorare quale potrebbe essere il suo sogno nel cassetto da realizzare tanto che faccia un po' più fresco che nevichi in inverno ma queste non sono cose che dipendono da me e da noi credo che il punto nodale di tutto sia la sensibilizzazione io ho fatto varie attività di divulgazione ma anche tanti altri colleghi proprio per sensibilizzare stimolare far capire alla gente l'importanza anche di tanti ambienti che abbiamo preservati in un certo modo e che pian piano se non facciamo qualcosa per mantenerli andranno perduti o molto modificati con dei riscontri negativi anche per il turismo molti di questi ambienti sono proprio gestiti e tutelati da la gente che vive che sta in montagna e gli alpeggiatori e gli agricoltori sono i primi che vanno valorizzati in questo senso bene dunque va favorita l'agricoltura sì assolutamente sì in certi modi in certi criteri e con certe sovvenzioni che devono arrivare dalla regione bene grazie per il suo importante contributo grazie a voi e buon lavoro grazie grazie anche ai nostri telespettatori come sempre Grandangolo torna venerdì prossimo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti